Bentornati su MyFootballJersey. Oggi vediamo la maglia di una squadra americana che gioca appunto nel campionato americano, dei Los Angeles Football Club, la maglia trasferta in versione player. Grazie a tutti. La maglia è molto bella. Nella mia classifica questa prende 4 stelle. Veramente bello il materiale e molto bello questa sfumatura un po' sul verde, sul nero. Una maglia che vi consiglio. Il costo lo vedete qui sopra. Estremamente basso e vantaggioso per una maglia fatta bene che arriva con dei tempi di spedizione molto buoni. Questa è arrivata in 17 giorni. Vi ricordo che in descrizione trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia. Andate a vedere sul sito quale splendide offerte vi attendono. Ora, prima di lasciarvi la parte finale, mi raccomando, lasciate un grande like e iscrivetevi al canale. Vi ricordo che questo è l'unico modo che avete per farci crescere ed avere sempre nuove recensioni. Alla prossima! Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia large della versione player. Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa.